Il modo Lidio in tonalità di La è composto dalle seguenti note. Tra il La e il Si un tono, tra il Si e il Do diesis un tono, tra il Do diesis e il Re diesis un tono, tra il Re diesis e il Mi un semitono, tra il Mi e il Fa diesis un tono, tra il Fa diesis e il Sol diesis un tono, tra il Sol diesis e il La un semitono. Ci sono quattro alterazioni appunto in direzione a salire dei sharp, dei diesis, e sono appunto il Do diesis, il Re diesis, il Fa diesis e il Sol diesis.